Benvenuti nel canale delle notizie del Napoli. Qui troverai le ultime informazioni sul club italiano più appassionato. Rimani aggiornato su acquisti, prestazioni dei giocatori e curiosità dietro le quinte. Iscriviti subito, lascia il tuo like ed entra a far parte della nostra community dedicata ai tifosi del Napoli. Insieme, tifiamo e vibriamo per il nostro amato club. Benvenuto! Il Napoli prende di mira le Normand, i giganti spagnoli. Ma la clausola è troppo alta. Il Napoli, secondo il Corriere dello Sport, punterebbe sul fortissimo difensore della nazionale spagnola. Il Napoli cerca un difensore centrale per la nuova stagione. L'addio di Kim è ormai scontato, il club azzurro punterebbe a Robin Le Normand. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport e tra le pieghe del calciomercato. E' spuntato un nome nuovo, Robin Le Normand, difensore centrale di Real Sociedad Eroia che ha appena conquistato il Nazioni. E che ha sfidato l'Italia in semifinale, ha giocato dal primo minuto al fianco di la porte. Si legge poi, il Napoli ha tenuto d'occhio questo colosso nato in Francia con cittadinanza spagnola, 187 cm e la stima di Mister de la Fuente, che si è affrettato a richiamarlo in Spagna per le nazioni e a proteggerlo dalle incursioni, da parecchio a volte. Curiosità, si è naturalizzato spagnolo il 24 maggio, guarda caso anche il giorno del compleanno di De Laurentiis. Ha una clausola rescissoria incorporata nel contratto, circa 60 milioni. Trattabile, riporta Il Quotidiano.